Si moltiplicano le segnalazioni di Igor, il serbo, l'uomo ricercato in tutta Italia perché sospettato di essere collegato i due omicidi avvenuti tra Ferrara e Bologna nelle scorse settimane. Dopo i presunti avvistamenti in provincia di Venezia, infatti, ora Igor sembra essere passato anche da Padova. Il condizionale è d'obbligo, però il dato certo è che ci sono due segnalazioni. L'ultima in ordine di tempo è di questa mattina. Una donna ha chiamato il centralino della questura, segnalando che l'era sembrato di aver visto Igor proprio sull'Eston davanti al caffè Pedrocchi. Immediato l'intervento degli agenti, che però non hanno avuto riscontri dell'avvistamento. Nelle scorse ore, invece, anche un sedicenne ha telefonato in questura, riferendo di aver notato Igor, o qualcuno che gli assomigliava molto, a bordo di un autobus diretto dalla stazione alla zona delle Terme. L'uomo sarebbe sceso alla fermata di Piazza Remitani e a quel punto il ragazzo ha deciso di avvisare la polizia. Polizia che ha subito avviato la procedura prevista, ha verificato la descrizione del ragazzo e ha avvisato anche le altre forze dell'ordine, che hanno controllato a campione alcuni autobus cittadini dell'uomo nessuna traccia. Il sedicenne potrebbe essere anche rimasto tradito dalla somiglianza con il ricercato che ormai tutti hanno visto nelle fotografie che stanno facendo il Giro d'Italia. Finora le segnalazioni più vicine avevano riguardato la provincia di Venezia, da Chioggia a Mestre, da Carle a Porto e Gruaro e Sanstino di Livenza ed era stato descritto come un uomo dimesso e dall'aspetto sofferente.